L'Aquila è in particolar modo la zona dei centri commerciali ancora una volta presa di mira dai ladri. Questa volta nella notte attorno alle 3 il furto è avvenuto nel negozio Ipercina, negozio di casalinghi, abbigliamento e materiale elettronico. I malviventi, secondo quanto ricostruito dai proprietari, hanno portato via circa 30.000 euro di soldi in contanti. Stanno indagando i carabinieri della Compagna dell'Aquila diretti dal Maggiore Luigi Balestra. Lo store si trova vicino al centro commerciale L'Aquilone e nella zona ultimamente sono tanti i furti consumati, sia al centro commerciale stesso che alla Galleria Il Globo e anche a Brico Center che si trova nelle vicinanze. I ladri, 3 secondo le riprese delle telecamere, per entrare hanno forzato la porta laterale dello stabile. Sono riusciti con maestria a deludere il sistema di allarmi ad infrarossi. Al vaglio dei carabinieri ora ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Certamente questa escalation di furti preoccupa non poco la popolazione.